Ciao 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 Un uomo entra in un caffè Oh no è bollente salvatemi Ti aiuto io Grazie A morire sono la strega che ha ingrandito il caffè Odio essere in quarantena c'è troppo vento Ma questa non è la quarantena è il paracadutismo Ah Allora odio il paracadutismo Vorrei mangiare la pizza Ma non ho la pizza Ho vita triste e priva di pizza Potresti preparare la pizza Non ho voglia Scusi quanto costa questa? Questa? Questa Ma è l'atmosfera Cento euro Affare fatto Ehi la Sbirulino Ciao Margo Come va? Tutto bene Tutto bene Tutto? A modo di dire Wow tutto bene Assurdo Sì ma Wow Wow Tutto bene Stai Uff Tutto bene giochiamo a mario kart ok io sono mario e io sono kart sasso carta forbice tavolo sedia finestra anello di fidanzamento scusi mi porta un caffè ma questo non è un bar è casa mia se questo non è un bar come spiega quell'orso feroce a un orso